Musica Programma regionale di sviluppo al via il dibattito, la destra presenta quasi 200 emendamenti. Firenze e Fiera, ecco il piano di rilancio, servono 28 milioni e un nuovo socio. A Rocca Strada tutto pronto per Medioevo nel Borgo, appuntamento dal 4 al 6 agosto. Il Consiglio regionale avvia il confronto sul programma regionale di sviluppo 2021-2025 e lo fa con una seduta a fiume spalmata su tre, forse addirittura quattro giorni. Il programma punta a rispondere alle gravi criticità innescate da Covid e guerra in Ucraina e a cogliere le opportunità legate alle importanti risorse del PNRR e dei fondi europei. È un piano che vuol dare risposte per quanto riguarda la resilienza, alle difficoltà che sono state create prima dalla pandemia, poi dall'aumento dei costi e dell'energia, dovuti anche al conflitto che purtroppo è ancora in essere in Ucraina. Per la prima volta negli ultimi anni si tratta di un piano di programmazione che prende in considerazione anche risorse importanti da poter spendere per quanto riguarda il PNRR, per quanto riguarda i fondi strutturali, quelli ordinari, programmazione 21-27. I nostri emendamenti chiediamo di lavorare per un piano casa e per quanto riguarda le ristrutturazioni dei cosiddetti alloggi di risulta, chiediamo un investimento sull'impresa culturale che è veramente una ricchezza per quanto riguarda la Toscana, chiediamo di cogliere tutte le opportunità date dal PNRR per quanto riguarda il rafforzamento della sanità territoriale, insomma una Toscana che sappia da una parte rispondere alla crisi e dall'altra cogliere le opportunità per essere sempre all'avanguardia una regione di testa nel panorama non soltanto italiano ma europeo. A ridosso dell'apertura del dibattito i capigruppo di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia hanno annunciato 200 emendamenti lanciando di fatto la sfida per le prossime elezioni regionali. Arriva in discussione con due anni e mezzo di ritardo quasi il piano regionale di sviluppo, un atto strategico per la regione toscana, un piano su cui ulteriormente la maggioranza si è nascosta perché non sono state fatte le giuste audizioni che meritava il piano regionale di sviluppo, scrivendo una paginetta sulla sanità e ricordiamo essere l'80% del bilancio della regione toscana, si fa un accenno a un disastroso piano regionale dei rifiuti che andremo, spero mai, però purtroppo ad approvare dopo la pausa estiva, poi potrei andare avanti con la tematica dell'acqua, la tematica dell'energia, la geotermia per noi è una risorsa preziosissima che non riusciamo purtroppo come toscana a far volare come meriterebbe. Siamo pronti con tantissimi emendamenti, tutti emendamenti in forma propositiva, in forma costruttiva, per partire con il nostro progetto del 2025. Fratelli d'Italia ha presentato, mi sembrava da memoria, 73 proposte di emendamenti, non sono emendamenti in cui si cambia una virgola con una E, tanto per rimanere in aula, sono emendamenti in cui si cercano di introdurre elementi di novità, elementi di cambio di passo che oggi non esistono. La regione toscana è l'unica regione in Italia che nel 2022 non ha colmato il gap perso nel 2020 con la pandemia, l'unica regione d'Italia in cui il PIL non è tornato a livelli del pre-pandemia, non è normale. E questo è frutto di un'amministrazione che veramente naviga a vista, naviga alla giornata, chiunque arriva alla giacca del governatore e riesce a tirare per la giacca il governatore chiedendo un intervento puntuale su un qualcosa scisso da una visione collettiva, il teatro, il cinema, il ponte, la strada, la buca, chiunque riesca ad arrivare alla giacca del governatore e a tirarla più forte ottiene i migliaia di euro necessari a fare l'intervento puntuale, fuori da ogni logica di visione. Io annuncio a nome dei tre gruppi e quindi del centrodestra, lunedì 31 luglio, i gruppi di centrodestra incontreranno i parlamentari di centrodestra insieme ai sindaci che amministrano i comuni di centrodestra, sia sopra i 15.000 e sotto i 15.000 abitanti, per lavorare insieme a loro, non al programma per le prossime elezioni amministrative, cioè le istituzioni regionali, ma per lanciare la Toscana 2025. Il governo di centrodestra, partiamo da quello che i nostri sindaci hanno fatto e che stanno facendo, partiamo dal buon lavoro delle amministrazioni di centrodestra, consapevoli del lavoro che il centrodestra ha fatto in Consiglio regionale in questi due anni e mezzo e consapevoli che esiste una possibilità di vincere le prossime elezioni regionali. Ma ascoltiamo qual è l'iter che ha percorso il programma prima di approdare in aula. Il programma regionale di sviluppo indubbiamente sconta la particolarità di questa legislatura che è nata nell'autunno del 2020, quindi in piena crisi pandemica e che quindi per tutta la sua prima parte ha avuto gli effetti della pandemia anche sull'azione di governo, una cosa che è avvenuta non soltanto per la regione toscana, ma per tutti i livelli di governo del nostro paese e anche a livello internazionale. È chiaro che l'azione di governo poteva essere impostata in maniera più puntuale e lucida nel momento in cui, dalla fase di pandemia, il nostro territorio ha cominciato ad uscire. Quindi è inevitabile, fisiologico, che un'azione di programma dovesse tener conto di tutta una serie di aspetti e di dati che solo il tempo ha potuto definire. A questo poi si è sommato un livello di approfondimento e di confronto svolto sul programma regionale di sviluppo molto approfondito. Questo perché non soltanto la fase della concertazione è stata particolarmente significativa quando ancora la bozza del programma regionale di sviluppo doveva essere presentata, ma perché poi anche nell'attività consigliare si sono svolte tutta una serie di audizioni con le categorie, con i sindacati, addirittura con il mondo accademico, audizioni che sono state molto partecipate e molto approfondite e anche le altre commissioni, diverse da quella che presiedono, hanno voluto comunque per gli aspetti relativi alla propria competenza, svolgere tutta una serie di adeguati approfondimenti. Anche nei lavori della prima commissione sono stati presentati diversi emendamenti e se la prospettiva deve essere quella di coinvolgere quanto più possibile le forze politiche nel confezionamento di questo atto programmatorio così importante l'idea è quella, come nella prima commissione è avvenuto, di andare a vagliare questi emendamenti nel loro contenuto, ricepire ciò che è in sintonia con gli indirizzi politici che la Regione Toscana ha in questa legislatura ed eventualmente espungere ciò che è distonico rispetto agli obiettivi che il Governo regionale si è dato. Aumento di capitale per 28 milioni, ridefinizioni della governance e sottoscrizione del nuovo patto parasociale sono questi i cardini del piano di rilancio di Firenze Fiera che sarà avviato entro il 31 dicembre e dopo la conclusione della procedura di selezione per individuare il nuovo socio privato. Lo ha spiegato al Consiglio regionale l'assessore all'economia Leonardo Marras rispondendo alle sollecitazioni del centrodestra. In quello che ci è stato riferito si cerca un salvatore si cerca qualcuno che ci venga a dettare le linee guida che ci venga ad insegnare quello che invece un'amministrazione o una dirigenza deve saper fare cioè aspettare quello che il socio privato che dovrebbe intervenire al quale delegare completamente tutte le strategie e sarà un socio, ci auguriamo, privato che non abbia la maggioranza io credo che questa sia la fotografia purtroppo, mi dispiace dirlo di un'altra eccellenza così come il Maggio Musicale Florentino così come Firenze Fiera di un fallimento totale di un'organizzazione e di un'amministrazione. Qui si sta parlando di ampliare, di fare nuove manifestazioni e mi sembra che sia il minimo avendo un'eccellenza come è la fortezza ma oltretutto noi abbiamo la proposta che avevamo fatta all'Aula ma l'avevamo fatta addirittura a gennaio era quella di rivisitare quelle che sono tutte le fiere della Toscana e eventualmente di uniformare e di fare una progettazione una programmazione proprio del diciamo il Made in Tascani usiamo questo termine proprio perché crediamo che il nostro territorio possa esprimere delle eccellenze e credo che abbiamo anche le strutture per poterle valorizzare ed è questo secondo me la strada da dover percorrere. Il piano convince la maggioranza favorevole all'idea di utilizzarlo come strumento di rilancio dell'intero sistema fieristico toscano. Sì ovviamente il sistema fieristico toscano ha bisogno di essere armonizzato organizzato e programmato il nostro è un voto di fiducia sulla possibilità di portare intanto un partner privato nella governance di alleggerire ovviamente la dimensione e l'impegno pubblico ma per cercare di rilanciare e migliorare l'integrazione fra realtà come Firenze, Arezzo, Carrara e non solo ci sono di mezzo anche le opportunità per le città termali serve integrare l'offerta fieristica e serve soprattutto fare un unico calendario a livello nazionale e provare a parlare una lingua sola per fare della Toscana diciamo un luogo dove le fiere vengono programmate, organizzate e distribuite su tutto il territorio regionale facendone di questo un motore di sviluppo. Da venerdì 4 a domenica 6 agosto il castello di Rocca Tederighi nel comune di Roccastrada farà un salto indietro nel 1300 grazie a Medioevo nel Borgo l'evento nato nel 1992 che con i suoi 250 figuranti attira nel piccolo borgo Grossetano fino a 10.000 visitatori. Siamo davvero onorati di poter ospitare questo evento bello, importante un evento che vede davvero migliaia e migliaia di visitatori venire a conoscere uno dei borghi dei luoghi più belli della nostra regione. La Toscana è fatta di tante iniziative che ne raccontano la sua storia i suoi valori, la sua identità e sapere che queste iniziative e in questo caso in particolare ci riporta nel 1300 vede tanti turisti, tanti cittadini venire a conoscere la nostra storia delle nostre tradizioni ma anche la bellezza di un borgo come quello di Rocca Tederighi mi dà il senso davvero dell'idea di una ripartenza di una ripartenza che c'è stata e che noi viviamo con l'auspicio che possa continuare sempre così anzi queste iniziative possano attirare ancora più turisti nei nostri territori. Alla presentazione dell'edizione 2023 a Palazzo del Pegaso hanno partecipato anche che è due esponenti dell'istituzione regionale particolarmente legati alla manifestazione. Questo far rivivere in qualche modo i castelli della loro vita serve anche per diciamo fare un tuffo nel passato e credo che un paese come quello di Rocca Tederighi poi con la Proloco si ritrovi a fare comunità e anche un modo per far conoscere ai più giovani quello che è stato il passato della nostra terra. Ed è anche un evento oltre che di grande tradizione è un attrattore turistico per tutta un'area quindi siamo davvero lieti di poterlo riabbracciare io tra l'altro ho anche dei ricordi particolari essendo stato un figurante una volta e quindi con affetto e questo ricordo pieno di di bellezza è un modo per invitare tutti quanti a tornare a Rocca Tederighi Un'edizione quella di quest'anno caratterizzata da alcune novità Il nostro territorio è animato da tante iniziative nel corso di questa estate e il Medioevo nel Borgo rappresenta sicuramente l'evento Clou tante novità la prima novità riguarda proprio la location lo scenario che è stato recentemente riqualificato domenica scorsa come amministrazione abbiamo inaugurato via della Torre che è la via centrale del Borgo di Rocca Tederighi e anche il cuore nevralgico del Medioevo nel Borgo Dopo alcuni anni di fermo torniamo speriamo alla grande in questa manifestazione cercando di mantenere il vecchio format perché era un format funzionante ma introducendo alcuni elementi che si spera portino migliorie confermati come da tradizione il mercato con prodotti e manufatti d'epoca e l'immancabile paglio dei ciucchi che si svolge ininterrottamente dal 1927 per questa edizione è tutto potete seguire le attività del Consiglio regionale e le dirette delle sedute consultando i link alla pagina www.consiglio.regione.toscana.it www.consiglio.regione.org